Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di quelle che sono state le mie migliori letture del 2020, quindi libri e fumetti che mi sono piaciuti di più. Non sono necessariamente libri e fumetti usciti nel 2020, ma quelli che io ho letto in quest'ultimo anno. È stato per me molto difficile selezionare meno di 10 titoli per questo video, perché oggettivamente ho letto fumetti bellissimi nel 2020. Mi sarebbe piaciuto inserirne tanti tanti altri, però molti magari o erano dello stesso genere, o erano simili per tematiche, o della stessa casa editrice. Diciamo che non volevo essere ripetitiva e quindi ho cercato di stringare e stringare sempre di più. Tanto alla fine, o nei video consigliati, o nei video preferiti, o nelle ultime letture, i libri e i fumetti che mi sono piaciuti di più, bene o male, li sapete o li saprete, li vedrete. Avrò sicuramente modo di parlarvi anche di quei titoli che non ce l'hanno fatta a rientrare nel video dei preferiti dell'anno. Quindi, banda alle ciance, iniziamo immediatamente con Finché il caffè è caldo. Il Toshikazu Kawaguchi è un libro che mi ha letteralmente rapita e fatta piangere in una maniera quasi imbarazzante. Qui ci troviamo in Giappone in un caffè molto particolare in cui è possibile viaggiare nel tempo. Ci sono diverse regole da seguire, come ad esempio è possibile viaggiare soltanto sedendosi in un determinato posto, non è possibile cambiare il presente, il tempo a disposizione è limitato perché non bisogna far freddare il caffè e così via. Noi seguiamo diverse persone che per determinate ragioni hanno un motivo per tornare indietro nel tempo. Magari hanno qualcosa in sospeso, vogliono chiarire una determinata situazione, nonostante sappiano che non riusciranno a modificare il presente, si sentono spinti a fare questo passo. Il libro è diviso in diversi capitoli, ognuno dei quali racconta una storia diversa e secondo me c'è un crescendo di emozioni. Infatti il primo capitolo mi ha lasciato abbastanza, non dico indifferente, ma tranquilla, forse mi aspettavo qualcosa di più, ma andando avanti nella lettura ho trovato sempre più emozione, sempre più profondità. E come vi dicevo, ho pianto sempre di più, sono arrivata alla fine veramente super devastata. Quindi è quel tipo di libro che secondo me è in grado di farti non soltanto immedesimare, ma provare emozioni molto molto forti. Trattando poi di rimpianti, vita, amore, famiglia, insomma temi molto forti, molto importanti, ma anche molto quotidiani, è molto facile rivedere se stessi o comunque provare empatia per i personaggi della storia. Inutile dire che è un libro che strastra consiglio, tra l'altro a breve uscirà il seguito di questo libro. Non si tratta diciamo di una serie, ma ritorneremo in questa caffetteria, quindi si può leggere da solo, non è parte di una vera e propria serie. Non sarà una sorpresa per nessuno, uno dei manga preferiti di questo 2020 è sicuramente Nuvole Bianche di Isai Waoka. In generale il 2020 è stato l'anno per quanto mi riguarda di Isai Waoka. Mi sarebbe piaciuto inserire in questo video infatti anche nei comici e Dozei Mansion per dire. Quindi racchiudiamo un po' con Nuvole Bianche Isai Waoka. Questo manga è una raccolta di 14 racconti e anche in questo caso i temi sono molto quotidiani. Ci si basa molto sulla malinconia, il tempo che scorre, i ricordi, la famiglia, i nuovi sentimenti. Ci sono racconti un po' più fantastici diciamo e altri molto più realistici. E' un bel mix secondo me anche di emozioni perché alcuni racconti magari possono sembrare un po' più leggeri, altri di nuovo mi hanno fatto venire un po' la lacrimuccia. Una cosa che a me piace molto di questa autrice è che è in grado di rendere speciale anche la vita ordinaria. Nel senso che ci sono dei momenti della nostra vita che magari diamo per scontati perché non eccezionali, non straordinari, sono soltanto degli episodi di vita di tutti i giorni, le persone che incontriamo, le dinamiche della nostra famiglia, il vivere giorno dopo giorno. In realtà io penso che ci sia dello straordinario nel vivere la vita giorno dopo giorno, anche in quelle cose molto semplici e banali che bene o male possono vivere tutti, ma che noi essendo unici viviamo in una determinata maniera. Il modo che ha di raccontare Isai Waoka secondo me riesce a dare maggiore rilievo a questi momenti anche banali e ordinarie. Questo è stato il primo fumetto tra l'altro di Isai Waoka, ma secondo me racchiude molto bene quella che è la sua opera, almeno quello che ho letto finora di suo, l'ho visto in toto in questa raccolta. Si tratta poi di un volume unico, quindi se magari non avete mai letto manga o volete approcciarvi secondo me può essere un buon punto di partenza. Il tratto di questa autrice è molto lontano da quello mainstream, è facilmente riconoscibile, i suoi personaggi sono caratterizzati da questa testa sproporzionata, molto grande, mentre i tratti del viso sono piccoli piccoli, che vanno quindi molto in contrasto con gli occhioni che caratterizzano invece molti manga. E questa è una particolarità espressiva che caratterizza comunque l'opera dell'autrice. Altro libro super top, Ragioni per continuare a vivere, di Matt Haig. Questo è un libro che mischia un po' l'esperienza personale dell'autore che a un certo punto della sua vita ha tentato il suicidio, è poi andato in terapia per la sua depressione, parla molto anche della sua ansia, degli attacchi di panico, così come era già successo in Vita su un pianeta nervoso. Qua si concentra però di più proprio su quel momento in cui ha pensato di togliersi la vita. Oltre all'esperienza ci sono poi dei dati, diciamo, statistici riguardanti le malattie mentali e il suicidio in generale, ci sono magari delle liste, degli spunti di riflessione, degli aneddoti, diciamo, in generale, che possono coinvolgerlo più o meno direttamente. È secondo me una lettura che tutti dovrebbero fare, indipendentemente dal fatto di aver pensato o meno di togliersi la vita o di soffrire o meno di malattie mentali. È un libro che fa molto molto riflettere su come ci vediamo e come spesso siamo considerati dagli altri. E in linea generale ho trovato molto 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 interessante la riflessione che si fa sul come in generale la società tratti le persone affette da malattie mentali rispetto ad altre persone che soffrono di malattie croniche. Ad esempio, quante volte magari è capitato di sentire qualcuno dire a una persona depressa perché sei così triste, vedrai che andrà tutto bene e non si sentono mai dire le stesse cose ad una persona, ad esempio con un tumore. Quindi fa sicuramente molto riflettere. A tratti può magari far venire anche rabbia perché spesso ci si sente impotenti, ci si sente non capiti, non considerati, non visti o proprio considerati meno come se i sentimenti delle persone che soffrono e che sono malate fossero di serie B rispetto ad esempio ad altri malati. C'è ancora tanto pregiudizio riguardo alle malattie mentali, negli ultimi anni sicuramente si è parlato di più però ancora siamo un po' un po' lontani secondo me. Questa è una lettura che potrà far sentire al sicuro, capiti, rassicurati quelli che hanno passato questi momenti, che hanno sofferto, soffrono. Ma in linea generale è una lettura che dovrebbero fare veramente tutti anche solo per essere un tantino più consapevoli. Quest'anno ho letto diversi boys love che mi sono piaciuti molto, partendo dalla raccolta Wisdoms di Inagabe, A Strange, che è uscito sempre per la collana I Can Be About Publishing, però ho scelto di citarvi un altro manga che a me è piaciuto veramente tantissimo e che è un'autrice di cui io spero escano anche altri manga, ovvero Jackass di Scarlett Berico. Si tratta di un volume unico che vede per protagonista un ragazzo che un giorno, mentre si sta cambiando per fare attività fisica a scuola, si accorge di aver indossato per sbaglio i collant della sorella. Il suo miglior amico interviene prontamente e lo porta in salvo da occhi indiscreti. Questo episodio però fa suscitare nell'amico del ragazzo dei forti sentimenti, si trova attratto dalle gambe dell'amico che indossano i collant. Si rivela quindi questo lato fetish e fra i due si andrà un po' oltre l'amicizia. E' secondo me un fumetto che bilancia bene momenti divertenti, buffi, che spesso nascono da equivoci, fraintendimenti, a momenti invece un po' più diciamo profondi di riflessione, soprattutto per quanto riguarda l'accettazione, la scoperta di se stessi, le prime esperienze sessuali o meno. All'interno del fumetto non ci sono scene più di tanto esplicite, proprio perché è magari un fumetto che si concentra tanto anche sulle prime volte, sulla scoperta. Non è forse il mio boys love preferito, ma è uno fra i miei preferiti, perché appunto è una storia divertente ma anche profonda e in un volume unico riesce secondo me a sviluppare una storia interessante. Altro libro che mi ha profondamente segnata quest'anno è l'incolore Tazaki Tsukuro, i suoi anni di pellegrinaggio di Haruki Murakami. Questo è un libro che mi ha coinvolta tantissimo sull'aspetto personale perché ho rivisto un'esperienza che ho affrontato. Il protagonista ai tempi dell'adolescenza aveva un rapporto bellissimo con un gruppo di amici, poi qualcosa è cambiato. Improvvisamente un giorno per telefono gli è stato detto di non farsi più vedere e che l'amicizia era terminata. Lui quindi va avanti con la sua vita e si trova a 30 e passa anni a ripensare ancora a quanto è successo in passato perché quel rapporto di fortissima intesa e amicizia con il suo gruppo è terminato, non gli è mai stato dato un motivo, un momento di confronto e di chiarimento. E quindi sente che ancora dopo così tanti anni c'è qualcosa di sospeso. Per questo motivo ricontatta le persone con le quali aveva questa forte relazione di amicizia e prova appunto a chiarire e a capire che cosa sia successo. Come vi dicevo ho rivisto tanto della mia esperienza passata, quindi è stata una lettura molto molto dolorosa, però anche molto interessante perché comunque si parla molto di amicizie, di come diverse persone considerino questo tipo di relazione. Oltre a questo c'è una profonda secondo me anche indagine interiore del protagonista perché non si dà pace su quanto è successo e quindi ha anche dei momenti di solitudine in cui ha indagato profondamente se stesso quanto stava provando è arrivato a dei momenti anche molto molto bui della sua vita. Una bellissima lettura quindi sull'amicizia ma non solo, anche sulla profondità dei sentimenti, sulla propria intimità diciamo. Intesa proprio come il conoscersi, il capirsi, l'accettarsi e venire a patti con se stessi per stare anche bene con gli altri poi. Questo è stato l'anno anche dei bei mattoni di fumetti. Da ultimo ho letto ad esempio Sul raggio di sole di Tilly Walden che mi è piaciuto moltissimo, penso che sia un grande titolo su accettazione, sull'identità, la famiglia intesa in senso molto allargato. Ma una storia che non riesco proprio a togliermi dalla testa è quella di Golo Zhao. Tu sei il più bel colore del mondo, come vi dicevo un bel mattoncino che parla essenzialmente di adolescenza. In particolare il protagonista si trova alle prese con gli esami di fine anno, deve terminare le scuole medie per passare poi al liceo, quindi dal risultato di questi esami dipenderà poi anche la sua scelta della scuola successiva e diciamo anche del suo futuro, del lavoro, della vita che farà. Periodo quindi molto delicato, molto stressante che suscita non solo nel protagonista ma anche negli altri personaggi che non sono affatto secondari, abbastanza un fumetto corale, dubbi sul futuro, su chi è, su chi si è. Si parla di amicizia, prime volte, primi amori, ma anche di bullismo. E di nuovo secondo me è una storia abbastanza universale, è ambientata in Cina, se non sbaglio negli anni 90, quindi ci sono tanti elementi pop. Il Game Boy ha segnato veramente la mia infanzia e adolescenza, quindi è stato un bellissimo momento nostalgico. A parte questo comunque ci sono diverse dinamiche che bene o male tutti noi abbiamo vissuto, la paura per il futuro, le prime cotte, il non sentirsi accettati, il quasi vergognarsi di esporre veramente la propria persona. Ci sono tanti tanti spunti molto interessanti, non solo di riflessione ma anche appunto di accettazione. Ci sono diversi momenti che sicuramente tutti noi abbiamo vissuto, quindi ci rivedremo in questa storia e allo stesso tempo come scoprire qualcosa di nuovo, come rivivere un periodo che tutti abbiamo vissuto però sotto occhi diversi. È impossibile secondo me non provare simpatia e empatia per i personaggi che sono molto diversi fra di loro e secondo me molto ben caratterizzati. Forse anche merito della lunghezza di questa opera che si prende veramente il tempo per raccontare diversi episodi quotidiani, soprattutto ambientati a scuola per costruire pian piano appunto questi personaggi. Poi vogliamo aggiungere che è un po' il grillo parlante del protagonista e un gatto ciccione? Non potevo non citarlo. Un'altra lettura che mi ha colpita molto è L'avversario di Emmanuel Carrer. L'autore in questo libro racconta una storia realmente accaduta. Il protagonista è un uomo che per anni ha finto di essere un medico e che per anni ha portato avanti una serie di menzogne e nel momento in cui stava per essere diciamo smascherato non ha visto altra via di uscita se non quella di uccidere sua moglie, i figli e i suoi genitori. Ha tentato poi anche il suicidio ma è sopravvissuto. È una storia secondo me terribile. Per certi versi mi ha ricordato un caso italiano di un ragazzo che aveva raccontato ai genitori di essere prossimo alla laurea quindi stava portando avanti i preparativi, i festeggiamenti eccetera ma in realtà era indietrissimo, non si stava per laureare affatto e invece di confessare questo ai genitori li ha uccisi. Trovo veramente incredibile arrivare a tanto pur di non dire la verità pur di non dire la verità a che cosa si arriva terribile. È una lettura tremenda sotto questo punto di vista ma l'autore non entra mai in realtà in dettagli eccessivamente violenti, macabri. Ci si sofferma molto di più sulla persona, la personalità, il vissuto ecco. E trovo molto affascinante tutto questo perché è interessante per me vedere come persone diverse se agiscano in determinate situazioni come magari il contesto sociale, economico possano influire. È interessante l'aspetto umano diciamo e psicologico. Non conoscevo tra l'altro questo fatto di cronaca quindi mi ha permesso veramente di scoprire qualcosa di nuovo. Ultimo non certo per importanza la processione funebre di Kappa di Maki Kusumoto. Anche questo è un volume unico e racconta la storia di un ragazzo che si trasferisce in un condominio molto bizzarro e particolare. Prende possesso di un appartamento che era appartenuto ad un ragazzo misteriosamente scomparso. Non si sa che cosa gli sia successo cioè proprio è sparito nel nulla non si sa nemmeno se sia morto o meno perché il suo cadavere non è mai stato ritrovato. Ogni persona sembra aver avuto un legame un certo rapporto con la persona scomparsa e tutti sembrano abbastanza reticenti. È come se avessero una doppia vita una doppia faccia e man mano che va avanti la narrazione si scoprono un po' le maschere e gli altarini. Molto molto interessante anche se leggermente inquietante per quanto mi riguarda. Si parla di segreti di appunto doppia vita di dipendenza Ogni personaggio è poi abbastanza eccentrico e particolare per motivi differenti. Quindi è molto accattivante come lettura perché ti spinge proprio a voler scoprire a voler capire che cosa si nasconde veramente dietro non soltanto la scomparsa appunto di questo ragazzo ma anche dietro ai vari personaggi che ci vengono presentati. C'è un modo di narrare molto cupo molto, non dico violento, però molto diretto e crudo che mi ha molto colpita, devo dire. È un fumetto che mi ha letteralmente stregata per questo fascino molto cupo molto dark di raccontare e di vivere in maniera profonda non soltanto il disagio della dipendenza ma anche del non sentirsi accettati e di non voler nemmeno accettare se stessi di essere troppo duri con se stessi un po' perché magari la società ha delle aspettative e fa determinate pressioni quindi c'è anche questa lotta interiore con il voler esprimersi il voler essere se stessi ma allo stesso tempo non voler dare delle delusioni il voler seguire un percorso, diciamo, predefinito. Questo era quindi il meglio del meglio delle mie letture del 2020 mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete letto questi libri e fumetti e nel caso che cosa ne pensate se vi sono piaciuti o meno e se avete piacere fatemi sapere un po' la vostra classifica delle migliori letture che avete fatto nell'ultimo anno. Spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo alla prossima. Ciao!